In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, continuiamo anche oggi questa riflessione sul sacrificio, sul valore dell'offerta, sul valore dell'oblazione che ci prepara appunto a comprendere meglio come vivere la Santa Messa, intesa come sacrificio di Cristo sull'altare. Abbiamo detto la volta scorsa che il sacrificio, l'offerta, la nostra offerta a Dio è certamente un'offerta molto impegnativa perché colui che riceve il dono non è un essere umano ma è Dio stesso. D'altronde abbiamo visto che ci possono essere dei pericoli nella nostra offerta a Dio cioè il rischio che diventi un'offerta ipocrita quando non corrisponde al nostro cuore, al nostro pensiero e il rischio che diventi addirittura oltraggiosa e offensiva quando l'offerta è veramente di scarso valore e richiede uno scarso impegno nel compierla. Ebbene, allora questa offerta deve essere accompagnata diciamo oggi dal pieno consenso del nostro cuore da un'anima completamente rivolta verso Dio amare Dio con tutto se stessi. In fondo il contenuto del sacrificio il contenuto dell'oblazione il contenuto dell'offerta è questo cuore che ama il Signore al di sopra di tutte le cose. Il contenuto del sacrificio si identifica con il contenuto stesso della preghiera. Anche la preghiera deve essere così. E quindi come la preghiera può essere di adorazione, di ringraziamento oppure di riparazione oppure di impetrazione cioè di domanda così anche il sacrificio l'offerta ha queste caratteristiche adorazione, ringraziamento riparazione, impetrazione. La differenza che c'è tra la preghiera e l'offerta del sacrificio è che l'offerta del sacrificio richiede un'azione l'azione del culto. Quindi nel sacrificio quello che è presente nel nostro cuore e quello che diciamo con le nostre labbra si rende poi manifesto attraverso delle pratiche delle azioni delle azioni di culto. Quindi è una preghiera completa, integrale che coinvolge tutta la persona umana il cuore la bocca la mente ovviamente perché le cose vanno comprese cuore, mente, bocca perché recitiamo delle preghiere corrispondenti ma anche l'azione l'opera delle nostre mani è un culto integrale ecco che ha questo vantaggio quello di essere salutare per il nostro spirito perché salutare per il nostro spirito perché il nostro spirito può finalmente manifestarsi altrimenti sarebbe represso il nostro spirito creato da Dio è santificato dallo spirito santo nel battesimo se non ha questo sbocco cultuale fattivo nel culto è uno spirito represso ecco perché quando riscopriamo la messa nel vetus ordo le persone scoprono un mondo meraviglioso perché in quel mondo possono veramente esprimere ciò che nel profondo della loro anima di battezzati è presente mentre scopriamo come nelle messe novus ordo dove non ci sono tutti questi non ci sono tutte queste caratteristiche dell'adorazione del ringraziamento eccetera e lo spirito cristiano risulta mortificato e sono la causa dello svuotamento delle chiese dall'altra parte fa bene la nostra anima è salutare per la nostra anima il vero culto cristiano ma rende giustizia a Dio al quale appartengono tutte le cose quindi c'era una un detto un principio un principio che accompagnava anche nell'antico testamento l'offerta del sacrificio ed era questo di non comparire mai davanti a Dio a mani vuote di donare a Dio con animo generoso secondo le nostre possibilità ovviamente pensiamo quindi ai santi magi santi magi hanno adorato Gesù come re dei giudei ma lo hanno fatto aprendo i loro scrimi e dando il meglio di se stessi sia lodato Gesù Cristo con